Parliamo dei test che servono per diagnosticare Covid-19 e cominciamo dal test sierologico. Per parlare del test sierologico dobbiamo ricordare che quando un paziente viene infettato dal coronavirus il suo sistema immunitario reagisce e produce degli anticorpi contro il coronavirus. Ecco, il test sierologico cerca nel sangue del paziente questi anticorpi contro il coronavirus. Se ci sono, il test sierologico è positivo. Se non ci sono, il test sierologico è negativo. Per capire però a cosa serve praticamente questo test, noi dobbiamo ricordare una cosa. Il nostro sistema immunitario, quando viene stimolato da un virus o da un agente estraneo, impiega 12 giorni più o meno per fare gli anticorpi, per produrli. E allora andiamo nella situazione concreta di un paziente che si infetta con il coronavirus. Abbiamo un paziente che si infetta con il coronavirus, il coronavirus nel suo corpo comincia a replicarsi e stimola il suo sistema immunitario. Questo paziente va avanti, è ancora sintomatico, però ad un certo punto diventa contagioso, ma ancora gli anticorpi non ci sono. E quindi l'esame sierologico è negativo. Il paziente si ammala, la febbre diventa ancora più contagioso e ancora gli anticorpi non ci sono. Il test sierologico è negativo. Diventerà positivo più avanti, però voi capite che l'utilità concreta di un test di questo tipo è piuttosto limitata, perché un paziente contagioso è negativo e un paziente malato è ugualmente negativo. E noi dobbiamo considerare questo test come uno strumento molto utile per guardare all'indietro, cioè per capire quante persone nel passato si sono infettate col coronavirus. Ma non interessa il presente. Per il presente noi dobbiamo usare il tampone molecolare, quello di cui avete sentito parlare fino alla nausea durante tutti questi mesi. Vediamo una volta di preciso di cosa si tratta. Un tampone fisicamente è una sottile asticella di plastica che ha in cima un po' di cotone. Questo tampone noi lo infiliamo nel naso e nella gola del paziente per accogliere del muco dove ci può essere il coronavirus. E poi mettiamo questo tampone in una provetta che contiene un liquido. Che liquido c'è? Beh, per capire cosa fa quel liquido noi dobbiamo dare uno sguardo al nostro coronavirus in una maniera un po' diversa dal solito. Dobbiamo guardarlo con una finestra che ci faccia vedere cosa c'è al suo interno. Al suo interno c'è il genoma. Ed è importantissimo perché noi col tampone molecolare cerchiamo il genoma del virus. Quindi in quella provetta c'è del liquido che distrugge il virus mantenendone integro il genoma. E cosa ci facciamo poi noi con il genoma? Beh, il genoma noi abbiamo la possibilità di amplificarlo con una reazione che si chiama polimerasica a catena con trascrizione inversa, quella che sentite chiamare PCR continuamente. Noi possiamo sottoporre il DNA a dei cicli di amplificazione e a ogni ciclo il numero di molecole di DNA raddoppia. Ora voi capite che se anche si parte da poche molecole, due o tre molecole e alla fine dopo 45 cicli avremo un numero esorbitante di molecole di DNA nella provetta che la renderanno fluorescente dando la positività del test. Ovviamente questa amplificazione specifica funziona solo se c'è il genoma del coronavirus. Se nel tampone il coronavirus non c'è, questa amplificazione non avviene e il test è negativo. Quali sono i pregi di questo test? Che comunque non è semplicissimo, richiede macchinari, richiede tempo. Il pregio è la grandissima sensibilità. Nel momento in cui un test riesce a individuare due o tre molecole di questo genoma voi capite che nel momento in cui il test è negativo possiamo stare tranquilli. Qual è il difetto di questo test? Il difetto di questo test è il suo pregio, la stessa cosa, che è estremamente sensibile. Quindi può risultare positivo anche un paziente che ha soltanto pochi virus nella gola e non è per niente contagioso. Perché a noi quello che interessa molto non è solo capire chi è stato infettato, ma interessa capire chi è contagioso. Perché se lo individuiamo possiamo isolarlo e soprattutto possiamo isolare quei pazienti super contagiosi che sappiamo esistere in questa malattia e che se arrivano nel posto sbagliato fanno un disastro. Per questo noi possiamo pensare di utilizzare i test rapidi. Che cos'è un test rapido? L'inizio del test rapido è identico a quello del tampone molecolare. C'è una bacchettina di plastica con del cotone che viene messa nel naso del paziente e poi viene messa in una provetta dove c'è un liquido. Questa volta però il liquido è del tutto diverso da quello precedente. Perché mentre nel test molecolare noi cerchiamo il genoma del virus, qui non cerchiamo il genoma del virus. Qui cerchiamo le proteine del virus. Quindi quel liquido distrugge il virus lasciandone però integre le proteine. Queste proteine poi vengono trasferite su un supporto solido, tipicamente bianco perché è comodo. Immediatamente dopo viene messo in contatto con queste proteine un reagente che le sa riconoscere, ovvero un reagente che in maniera specifica si lega alle proteine del coronavirus. Un reagente che ha attaccato un colorante nero che fa apparire quella sbarretta nera che voi vedete nei test rapidi, che sono tipicamente dei quadratini di plastica. Vedete qui c'è il segno più, dove c'è la sbarretta nera vuole dire che ci sono le proteine del coronavirus, dove non c'è la sbarretta nera vuole dire che non ci sono le proteine del coronavirus nel tampone fatto al paziente. Quindi nel primo caso il paziente è positivo, ha il virus, nel secondo no. Quali sono i pregi di questo test? Beh c'è un modo molto facile per farvelo capire. Questo test funziona come i test di gravidanza, con la differenza che il test di gravidanza cerca una proteina che si chiama gonadotropina corionica che è presente nelle urine delle donne quando aspettano un bambino. Invece questo test cerca le proteine del coronavirus. Cambiano soltanto i reagenti, nel test di gravidanza riconoscono la gonadotropina. In questo test riconoscono le proteine del coronavirus, ma il concetto è identico. E allora voi capite esattamente qual è il vantaggio di questo test? La facilità d'esecuzione, la rapidità del risultato, la economicità. Quindi è qualcosa che può essere fatto in pochi minuti e da tutti. Quali sono i difetti di questo test? Beh un difetto potrebbe essere un pregio. In questo test noi non abbiamo quel processo di amplificazione che abbiamo invece descritto nel test molecolare. Quindi è un test che è meno sensibile. Però questo può essere un vantaggio, perché ci individua magari soltanto quelli contagiosi. E l'altro difetto di questo test è che i test disponibili non sono tutti efficaci allo stesso modo. Però è uscito proprio in questa settimana un lavoro di un importante gruppo di virologi tedeschi che ha analizzato diversi, ha valutato diversi di questi sistemi e ha trovato che almeno un paio funzionano davvero molto bene per identificare i pazienti che stanno emettendo il virus. Quindi questi test rapidi, se approvati velocemente e resi disponibili velocemente, potrebbero cambiare in maniera drammatica questi nostri mesi durante i quali stiamo aspettando il vaccino. Immaginate che uno prima di uscire di casa si faccia uno di questi test da solo per capire se è contagioso oppure che all'ingresso di una sala da concerto, di un cinematografo, di un ristorante, di un'aula universitaria si possa fare questo test velocemente, economicamente. Ecco, potremmo veramente dare un colpo decisivo al virus, naturalmente in attesa del vaccino che tutti speriamo possa risolvere definitivamente il problema. Grazie professore.